Ciao da Alessandro di 4W d'Italia, oggi siamo qui per presentarvi un accessorio molto ben fatto, marchiato Quadratec, che adesso andremo ad aprire e ve lo spiegherò, se riesco a aprire la scatola. Questi sono dei battitacco che hanno una serie di funzioni, questo è un Wrangler JL quattro porte, quindi in questa confezione ci sono sia gli anteriori che i posteriori, hanno la funzione sostanzialmente di proteggere la battuta della portiera in maniera tale che non si rovine ogni volta che si entra e che si esce dalla vettura. Sono veramente ben fatto, oltre che essere fatti negli Stati Uniti non sono una cinesata come si suol dire, oltre alla forma che adesso vi farò vedere applicata proprio sulla vettura, vengono incollati tramite un adesivo 3M molto potente. Sostanzialmente l'applicazione avviene in questo modo e questo battitacco copre anche la superficie di battuta della portiera stessa e quindi evita graffing tutta questa parte del telaio sostanzialmente e è un accessorio che sembra banale ma questa è una delle parti che si rovina di più nella Jeep entrando e uscendo. Colgo l'occasione per farvi vedere una differenza tra questi e quelli che sono i battitacco originali Jeep. La differenza è che questi coprono solo questa parte mentre quelli quadrate coprono anche questa e anche questo bullone di serie. Sembrano piccole cose ma comunque a mio giudizio sono fatti decisamente meglio. Nel kit è presente anche un detergente delle piccole persone con un detergente perché servono per sgrassare la superficie perché è molto importante prima di attaccarli e che tutto sia pulito in maniera tale che poi l'adesivo riesca incollare bene. Questo è il posteriore in posizione e anche in questo caso possiamo far vedere un confronto rispetto a quello originale Mopar. Questi battitacco sono acquistabili nel nostro sito che è 4vditalia.com. Se ti è piaciuto questo video ricordati di iscriverti al nostro canale, a voi costa poco, per noi è importantissimo. Grazie a tutti.